Salve a tutti. Questo è il terzo ed ultimo dei tre video in cui tratto di cosa pensano i testimoni di Geova della filosofia. In realtà, data la natura della filosofia di cui mi sono occupato in dei video, nella pratica questo è un discorso che riguarda la libertà di pensiero in generale, soprattutto la libertà dai condizionamenti delle sette. Infatti questi video sono indirizzati non tanto e non solo ai testimoni di Geova, perché loro non cambierebbero idee nemmeno se viene Gesù in persona a tentare di convincerli. Questi video sono indirizzati soprattutto a chi non sa cosa sia la filosofia, o a chi crede che sia inutile o brutta. Per questo io vi esorto ancora di più a diffondere questi video il più possibile e per sostenere il canale vi invito anche a mettere like, guardare gli altri video e iscrivervi. In particolari modo vi consiglio di guardare la miniserie su che cos'è la filosofia, che vi metterò tra le schede. Nel primo video ho cercato di mostrare innanzitutto che il loro concetto di filosofia è sbagliato, analizzando una delle loro pubblicazioni, riperibili online. Nel secondo ho cercato di mostrare che non è vero che la filosofia propriamente intesa sia necessariamente contraria alla Bibbia. In questo terzo ed ultimo video cercherò anche di mostrarvi come loro stessi sono in parte influenzati dalla filosofia, sebbene abbia già accennato qualcosa negli altri video. Infatti, anche se i TDG dicono di essere contrarie alla filosofia, per tutte le ragioni mostrate nei video precedenti, in realtà loro almeno in parte ne sono influenzati. Vi faccio alcuni esempi. Ai TDG piace molto questo passo, in Isaia 55, 8. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Questo passo sintetizza il tema dell'inconoscibilità di Dio, espresso anche dalla filosofia platonica. Avevo accennato prima al fatto che ai TDG è molto cara la teologia naturale, fatta a modo proprio. Cioè loro credono che l'universo sia frutto di un progetto e arrivano anche a negare l'evoluzione per questo. Ma come ho già ribadito, questo pensiero è frutto di anni di riflessioni filosofiche, a partire da Aristotele e Tommaso da qui in poi. Nel primo video vi dicevo che loro stavano a loro modo, parafrasando Nietzsche, secondo il quale la morte di Dio renderebbe vana ogni ricerca e ogni pensiero sistematico e quindi di ogni certezza. Aggiungo che uno dei motti dei testimoni di Geova è la verità è il miglior modo di vivere. Oppure anche se non fosse la verità, sarebbe comunque il miglior modo di vivere. Questa è grossomodo la scommessa di Pascal, secondo il quale appunto vale la pena essere cristiani. Perché qualora si avesse ragione allora si guadagnerebbe il paradiso, ma se si avesse torto non si perderebbe nulla. Una volta parlando con un TDG mi disse che la Bibbia disvela la realtà e gliela fa vedere per quella che è. E quindi inizia a vedere come il Natale e i compleanni sarebbero feste pagane, e cose simili. Praticamente stava parafrasando la caverna di Platone, dove si passa dalla conoscenza delle ombre alla conoscenza della realtà per quella che è, o più semplicemente la metafora del velo di Maier e di Schopenhauer. In un loro articolo sulla scienza, come dicevo nell'altro video, loro dicono di non rigettare la scienza, ma che essa ha dei limiti. Questa è una tematica epistemologica? È la filosofia della scienza che si occupa della linea di demarcazione tra scienza e fede o sui limiti del sapere scientifico. Oppure, i testimoni di Geova sarebbero disposti a rinunciare al principio di non contraddizione? Nella pratica si contraddicono spesso, ma questa è un'altra faccenda, ma per loro le contraddizioni sono ovviamente false. E parlando con vari testimoni di Geova mi capita di sentire che usano la parola logica, come se anche loro credessero che i ragionamenti dovessero essere strutturati. Infatti per loro è contraddittorio dire che Gesù sia Dio, o che certi passi della Bibbia possano contraddirsi tra di loro o che la scienza possa contraddire la Bibbia. Per loro è assurdo. A riguardo vi metto in descrizione dei link al loro sito. Sulle contraddizioni della Bibbia sono categorici, la Bibbia secondo loro non può contraddirsi mai. Eppure il principio di non contraddizione è alla base della logica umana, che è alla base delle argomentazioni filosofiche. Frutto dei primi secoli della speculazione filosofica, almeno a partire da Parmenide, giunto a maturazione con Aristotele. Vorrei concludere ricollegandomi alla conclusione del video precedente. Quando conviene a loro, il corpo direttivo può avere diritto a cambiare l'intendimento della Bibbia qualora si renda conto di essere nel torto. Loro credono che nel tempo l'intendimento migliora progressivamente, man mano che ci si avvicina al regno di Dio. Come spiegavo nel primo video, la filosofia non pretende di avere la verità ma cerca di avvicinarsi progressivamente ad essa. Ma non è la stessa cosa che hanno detto i TDG? Sì, peccato che nella pratica non sia proprio la stessa cosa. Dato che loro non cambiano intendimento sulla base del metodo filologico ed esegetico, cosa di cui parlavo nel video precedente. Con questo credo che sia tutto, ma se mi venissero altre cose in mente farò altri video. Al momento vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima.